Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo ovviamente se ritenete utile giovevole al bene delle anime. Quanto state per ascoltare? Io vi benedico e la Santa Vergine che protegga. Laudentur Iesus et Maria, amici. Do il benvenuto e il bentornato a tutti a questo ciclo di catechesi di carattere dottimino e formativo, a mio avviso oltremodo importante. Catechismo romano di San Pio X, puntata numero 20, articolo che oggi è alla nostra attenzione, il numero 12, la vita eterna. Spero di riuscire ad esaurirlo. Tutto forse no, la prima parte forse sì. Con questo si chiude il lungo itinerario che ci ha portato ad approfondire il credo e come sapete in ogni catechismo dopo la conclusione si aprirà. La seconda parte che per quanto riguarda lo schema del catechismo romano non passa subito i comandamenti ma prima affronta la tematica dei sacramenti, tematica oltremodo importante, specialmente per il contesto storico-culturale in cui questo catechismo fu compilato, che era evidentemente quello della polemica protestante. che sappiamo i protestanti avevano praticamente distrutto tutta l'impancatura sacramentale facendo sopravvivere un sacramento e mezzo, perché il battesimo e l'eucaristia però con una teologia sia della messa che dell'eucaristia completamente sballate. Però di questo parliamo le cose una volta. Cominciamo l'articolo sulla vita eterna che io adesso posso proporre la segna in maniera integrale, ripeto non so se riusciremo a concludere, se lo concludiamo tanto meglio altrimenti ci prendiamo tutta la calma possibile e immaginabile, perché non ci corre dietro nessuno. Allora, i paragrafi in cui è distinto sono i seguenti Il significato dell'articolo La vita eterna è una beatitudine perpetua La natura della beatitudine eterna L'inefabilità della beatitudine eterna La fede nella beatitudine che promuove la pietà La duplice beatitudine essenziale e accessoria La chiama così, si chiama anche accidentale E poi la beatitudine essenziale e la beatitudine, vedete, accidentale E come si acquista sicuramente la beatitudine E' un bell'articolo Dico subito a chi volesse approfondire più di qualcosa sulla beatitudine accidentale Se posso permettere di fare un piccolo spot Intanto lo faccio perché Persone che magari mi seguono non sanno tutte le cose che ho Perché sono un po' Ecco Siete, qualche giorno fa YouTube mi ha fatto gli auguri per l'anniversario del mio canale Il mio canale è aperto, il mio canale YouTube Dal 2011 Da maggio del 2011 Quindi ha appena compiuto 13 anni E per grazia di Dio In 13 anni ha accumulato 25 milioni di visualizzazioni Solo il canale YouTube Vedete presente che la mia attività sul web è cominciata un po' prima Perché nel 2009 E sicuramente 2009 Ero già online con il sito della parrocchia di Borgo San Michele Quindi con i primi MP3 YouTube venne un pochino dopo Perché è andato proprio capace io a gestire YouTube Quindi a fare un video Quindi con l'aiuto di tante cose Ho imparato nel corso del tempo Anche a fare i podcast Una volta per mandare un podcast su iTunes Dovei creare una pagina XML Con tutta una serie Ricordi di Atipiche Le chiamo così Fatitiche apostoliche Fatte per amore del Signore Perché effettivamente sono fatiche apostoliche Un po' atipiche Io sinceramente Tutto ora adesso Per quanto riguarda la gestione Diciamo tecnica Ho fatto sempre Praticamente tutto da solo I collaboratori Che ringrazio pubblicamente Mi danno una bella mano Per Come dire Le programmazioni Le gestioni Le parti grafiche La rielaborazione Di tante cose Adesso che stanno Vanno a fare di moda Sti di Hill Chiaramente E' cosa che Non c'è proprio tempo Di farlo Però La produzione Il caricamento del materiale Che va online Ci ho sempre pensato Anche perché Avendo io stesso Che registro le cose La materia prima E' più facile Che Le metto in giro io Se non che Girarle I collaboratori Che poi Debbano Rielaborarle Quindi Questo per Come piccolo Come piccolo Preambolo Questo per dire Che Un piccolo spot Pubblicità Volevo fare Che c'è un ciclo Di catechesi Quello su Tene la Nata Che Ha una relazione Privata Quindi si è liberi Di crederci O di non crederci Ha anche Alcuni passaggi Come dire Per certi aspetti Inediti Che non sono In contrasto Ovviamente Altrimenti non avrei fatto Con il ciclo di catechesi Con la rivelazione Ma danno alcuni Parametri Diciamo così Di lettura Che vanno ben compresi Di alcuni aspetti E Tene la Nata E' tutto un approfondimento Della Gloria accidentale Che Di cui sentiremo Parlare questa sera Che è una cosa Bellissima La riflessione Su queste cose Fa molto bene Lo diremo Fa molto bene All'anima Perché Chi vive Nell'amicizia Con il Signore E' molto Maggiormente Attratto Dalla Prospettiva E dalla Speranza Dei beni eterni Che non Distolto Dal pericolo Della dannazione Eterna Ecco Sapete che Generalmente Funziona così Addetta Dei maestri Di spirito I grandi peccatori Se tu gli vuoi A parlare Della Beatitudine Eterna Te li dono in faccia Perché confondono La Beatitudine Eterna Con i piaceri Di cui si dilettano E quindi Non si ritrarranno Dal peccato Pensando Ai Bene di La Beatitudine Eterna Ma quelli Bisogna Minacciargli I castigli Dell'inferno Mentre Le anime buone Quindi le anime Che sono già Incamminate Verso il cammino Della vita E A conoscere Quello Che Aspetta A chi Diventa Santo E certo Saranno sponate A intensificare Sempre di più Il cammino Della propria Santificazione Perché la gloria È proporzionata E meriti Tutte e due Anche quella Essenziale Come vedremo Perché È uguale per tutti Perché la visione Beatifica Ma È in grado L'intensità Di questa Varie A seconda Dei santi Che sono in cielo Allora Comincio la lettura Dopo Perdonatemi Questi preamboli Un po' Articolati Articolo 12 La vita Eterna Significato Dell'articolo Paragrafo 139 I santi apostoli I nostre guide Vollero chiudere Il simbolo Compendio Della nostra fede Con l'articolo Riguardante La vita Eterna Sia perché Dopo la risurrezione Della carne I fedeli Non devono aspettare Che il premio Della vita eterna Sia perché La felicità Perfetta E piena Di ogni bene Deve essere Sempre Dinanzi Ai nostri occhi E apprendessimo Che la mente E i pensieri Nostri Devono essere Tutti Fissi In essa Io che mi fermerei Seduta A stante Immediatamente La felicità Perfetta E piena Di ogni bene Deve essere Sempre Dinanzi Ai nostri occhi Non dobbiamo mai Distogliere Lo sguardo Perché È bellissimo E importantissimo La mente E i pensieri Siano Tutti Fissi In essa Ci dobbiamo Pensare E tanto Alla beatitudine Alla felicità Perfetta E piena Di ogni bene Quella felicità Che qui sulla terra Non possiamo conseguire È impossibile Perciò I parroci Istruendo i fedeli Non lasceranno Mai Di accenderne Gli animi Con il proporre Loro I premi Della vita Eterna Così Tutto quello Che essi avranno Insegnato Anche se Sommamente Grave A sopportare Per il nome Cristiano Lo crederanno Leggero E giocondo E diverranno Più pronti E arachio In obbedire A Dio Cioè Ragazzi Amici cari Ce lo dobbiamo dire Francamente Io Di questo Insomma Ne so qualcosa La vita cristiana È impegnativa È bella Ma è impegnativa Chiede delle rinunce Ma certo Chiede delle rinunce Chiede dei sacrifici Sì Quanti Abbastanza In alcuni casi Tanti Richiede sforzo Sì Richiede impegno Sì Richiede navigare Controcorrente Sì Richiede rinunciare A qualcosa Sì Sì Però Non possiamo Fermarci A questo Perché dobbiamo guardare Il fine No C'è un esempio Banale Se uno vuole diventare Un grande campione Di qualche sport Deve sottoporsi Ad allenamenti A fatiche Impressionanti Ok Sfiancanti Especialmente oggi Con i livelli Che abbiamo raggiunto Che cosa Perché fa quelle cose Perché guarda La meta Ci voglio diventare Un campione Diventare un fenomeno Perché poi sarò Acclamato dalle folle Diventerò l'idolo Dei ragazzini Ci avrò un sacco Di soldi E quindi Soffriamo Perché c'è stata Soffrì Eh O no La persona Che vuole diventare Che ne so Professionista Affermato Deve prendersi La laurea Se vuole fare Il magistrato Devi prendere Allare una giurisprudenza E poi devi superare Il corso magistratura Che insomma A mia reminiscenza È tanta roba Devi studiare Tanto Ti devi fare La gobba Sui libri Sì Lo devi fare Perché lo fai? Perché non ve li Dei mettere la toga E siete detti in tribunale Quindi Se uno non ci pensa mai Al paradiso E ai beni Del paradiso E nemmeno Li conosce Ma come farà Viva una vita cristiana? Soprattutto La castità Che è per tutti Gli stati di vita Questo non Dimentichiamolo mai Non è soltanto per Non è soltanto per I celibi I nubili I preti I frati Nessun È per tutti Anche per persone sposate Da vivere Certamente La famosa Castità Coniugale Che è diversa Da quella Che vive Una persona Che è fuori Per il matrimonio Ma è per tutti Siccome questa è una cosa Che è profondamente Allettante Per l'intensità Anche se Estremamente bassa E Pertanto mi riguarda Abbastanza spreggevole Però io non faccio resto Insomma Del piacere Che Che produce Quindi Porsi dei freni Darsi delle regole Che sono quelle Imposte da Dio Non è facile Sotto Sotto questo punto di vista No Ci sono due modi Ripeto Per Per digerirle O Pensare Alle pene Che si soffriranno Qualora Non ci si rinuncia Oppure pensare E' bene Che si godranno Qualora vi si rinuncia Poi amici Le regole Sono quelle che ho detto In generale Il grande peccatore È Come dire Aiutato maggiormente Da qualche bella predice Se non la pianti Cioè Detto in In parole molto povere Te ne vai all'inferno Gesù Nel angelo dice Andranno a finire Nella genna Insomma È un po' più Come dire Meno Traumatico Alla genna È l'inferno Non è paradiso Oppure Guarda amico mio Guarda che bello Vale la pena Soffrire un po' Queste cose così belle No Rinunciare a qualcosa O l'uno o l'altro Può darsi sia anche Le eccezioni Può darsi sia Il grande peccatore Che preferisce pensare Agli allettamenti E il giusto Che preferisce temere Le conseguenze Di qualche eventuale caduta Tutto è possibile Queste sono regole Non ferre Non assolute Però ordinariamente Funziona così Quindi Non bisogna mai Lasciare i decendere Giani Perché tutto quello Che avranno insegnato Anche se sommamente Gravi a sopportare Per il cristiano Lo crederanno Leggero Giocondo Ho detto tante volte Che i grandi santi Santa Gemma Era una Alganer Era una di quelle Che aveva fatte Solo questa massima Dicevano Tanto è grande Il ben caspetto Ogni pena Ma è diletto Ovviamente bisogna Crederci che esistano Queste cose Non pensare Che siano favole Ma come ho detto Tante volte Non sono favole Questo è un articolo Del credo Qui stiamo parlando Della fede divina E cattolica Quando si parla Di fede divina E cattolica Ripetiamo Fino alla nausea È più sicuro Quello che leggiamo Questa sera Che non che 2 più 2 Faccia 4 Perché questa È la proporzione E chi dubita Di queste cose O che ritiene Che 2 più 2 Faccia 4 È più sicuro Di quello Che stiamo ascoltando Non ha capito nulla Di cosa sia La fede divina Cattolica Bene Detto questo Proseguo La vita eterna È una beatitudine Perpetua Paragrafo 140 Sotto queste parole Che qui servono A spiegare La nostra beatitudine Sono nascosti Molti misteri È perciò Necessario Spiegarli In modo che Siano tutti noti Secondo la capacità Di ciascuno Si deve dunque Far notare Federico Che la vita eterna Significa Non tanto La perpetuità Della vita Ce l'abbiamo visto La volta scorsa Alla quale Partecipano anche I demoni E gli uomini cattivi Allora Amici Il fatto che noi Passiamo attraverso La morte corporale Ho detto altre volte Come dire È per certi aspetti Un dettaglio Sì Per carità Oltremodo Sgradevole E doloroso Ma La morte È Solo La trasformazione Momentanea Del nostro corpo Nell'ultimo Stato della sua esistenza In cadavere In attesa Della risurrezione Ma l'anima Non muore Non muore Non possiamo morire Quindi la vita eterna Non è che la vita Non finisce mai Perché la vita Non finisce mai È ovvio Non finisce mai Ho già parlato Non so se in questa sede O in tante altre In cui parlo Poi mi dimentico Contesti Che Il suicidio Che in circostanze Di disperazione Appare A tanti poveri I nostri fratelli E sorelle Come la soluzione Unica Del problema Non c'è altro da fare Sto disperato Facciamola finita Ma non la fai finita Perché D'accordo Non la fai finita Sì Certamente Ti liberi Dalle Dalle problematiche Legate alla vita terrena Ma non la fai finita Perché non è possibile Farla finita Una volta che ci siamo Non ci toglie più nessuno Dalla circolazione Facciamoci una ragione Mi raccomando Per questo che è molto importante Il problema del Ma io Lo so che cosa accade Dopo la vita terrena Perché che ci sia un dopo La vita terrena Non è Materia di dubbio L'ho detto altre volte Che c'erano arrivati Anche i filosofi pagani Intelligenti All'immortalità dell'animo Senza bisogno Della rivelazione Ok Ora Quindi la vita eterna Non significa La perpetuità della vita Alla quale partecipano Anche i demoni O gli uomini cattivi Quanto La perpetuità Della beatitudine Capito Capace di soddisfare Appieno il desiderio Dei beati Non è che perpetua la vita Inteso Come ciclo biologico Diciamo così Non lì è perpetua la felicità Impossibile non essere felici Non solo non essere felici Al sommo grado possibile Inimmaginabile Inimmaginabile Sono soltanto Le specie Le qualità Le forme I gradi E le caratteristiche Di questa abbiatitura Nello spot che ho fatto Tenera Mata Mi spiega qualcuno Ma qualcuno Non tutti E di quella accidentale Così la intendeva Quel dottore della legge Quindi sta vita eterna Che nel Vangelo Chiese al Signore Nostro Salvatore Che cosa devo fare Per possedere la vita eterna Ossia Che cosa devo fare Per poter giungere A quel luogo Dove è dato godere Della felicità perfetta Quindi quando sentiamo Vita eterna Io do a loro La vita eterna E nessuno Che cosa è La perfetta abbiatitudine Cioè c'è qualcuno Che non gli piace La abbiatitudine O che non la vuole Alzi la mano Su questo I filosofi pagani Tutti c'erano arrivati Il buon Aristotele Scriveva Nell'etica nicomachea Che Che cosa è Che desiderano Ottivanti gli esseri umani E su questo Siamo tutti d'accordo Abbiatitudine Abbiatitudine Su questo Siamo tutti d'accordo Cioè non si può Non essere d'accordo Capite Quindi C'erano arrivati Anche i pagani E quindi Che cosa dice Scriveva Che cosa devo fare Per aggiungere A quel luogo Dove hai dato potere La vita Della felicità perfetta In questo senso Le sacre scritture Intendono tali parole Come Si può osservare In molti altri luoghi Appunto Matteo 25 46 Se andranno questi Se andranno questi La condanna eterna Quegli altri La vita eterna Giovanni 3 15 No Romani 6 23 Possiamo prenderli anche Questi Questi riferimenti Per andare un attimo A dare un'occhiata No Riprendo un attimo Al volo Giovanni 3 15 Questo è il discorso A Nicodemo Sicuramente Essendo il capitolo No Si capitolo 3 Si Come Mosè Innalzò il serpente Nel deserto Così bisogna Che sia innalzato Il figlio dell'uomo Perché Chiunque De lui Abbia la vita eterna Inoltre Romani 6 23 Cosa dice Romani 6 23 Vediamo subito Testuali parole Il salario Del peccato È la morte Ma il dono Di Dio È la vita eterna In Cristo Gesù Nostro Signore Cioè Nostro Signore È venuta Tribolato A patire Tutto quello Che ha patito A fare con la morte Orrenda Perché noi potremmo Vedere la perfetta Beatitudine È la fonte Della beatitudine Dio Per questo Che la beatitudine È uguale Lo vedremo tra poco Visione beatifica Chiuso Fine Infatti Paragrafo Seguente 141 Natura Della Beatitudine Eterna È stato dato appunto Questo appellativo A tale beatitudine Perché non la si credesse Consistere in cose materiali E caduche Le quali non possono essere eterne Infatti questa stessa parola Beatitudine Non poteva bene esprimere Quel che si voleva indicare Soprattutto perché Soprattutto perché ci sono stati certuni Che gonfi Di fato Sapienza Hanno posto Insomma bene In quelle cose Che si percepiscono Con i sensi Ma mentre queste Periscono e invecchiano La beatitudine Non si può circoscrivere Con limite di tempo Che anzi Le cose terrene Sono del tutto Aliene Dalla vera felicità Dalla quale si allontana Moltissimo Che è trasportato Dall'amore E dal desiderio Sta scritto infatti Non amate il mondo Né quel che ha nel mondo Se qualcuno ama il mondo E lui non è la carità del pane E poco oppresso Il mondo passa Insieme con esso La sua concupiscenza Primo Giovanni Prima lettera di Giovanni 2 15.17 Questo dunque Vorranno pure i paroci Di visare nella mente Dei fedeli Per persuaderli A disprezzare le cose del mondo E non credere Che si può sostenere La felicità Quaggiù Dove non siamo cittadini Ma ospiti Non si può raggiungere La felicità Quaggiù Non c'è E soprattutto Non si può Mandare d'accordo La felicità mondana L'apparente felicità mondana Con la benitudine eterna Le cose del mondo Vanno disprezzate Non apprezzate Questa mentalità Un pochino Particolare Oggi diffusa Anche in certi ambienti Si pensa Si pensa di poter Fare pace Col mondo Di poter Giungere Diciamo così Dei compromessi Diciamo Dobbiamo Camparci Qua Quindi No no La tradizione Sana Della chiesa E' completamente Estranea In forza Di questi brani Della sacra scrittura Abbiamo appena ascoltato Tuttavia Che in questa vita Potremmo Dipendirci Beati Per la vissuta E la speranza Purché Rigettando Le impietà E desideri mondani Citazione di Tito 2,13 Viviamo Con sobrietà Con giustizia E con pietà Aspettando Che si realizzi La speranza Beata E la venuta Della gloria Del grande Dio E di Gesù Cristo Il nostro salvatore Queste cose Chi va a messa Le sentirà Tutti i giorni Durante la messa Liberi Se il Signore Di tutti i mali Concedi la pace A nostri giorni E con l'aiuto Della tua misericordia Viveremo Sempre liberi Dal peccato E sicuri Da ogni turbamento Nell'attesa Che si compia La beata speranza Questa E venga Il nostro salvatore Gesù Cristo Moltissimi però I quali credevano Di essere sapienti Non avendo compreso Queste cose Credettero Doversi cercare La felicità In questa vita Divennero stolti E caddero Nelle miserie Più grandi Romani 1.22 Ovviamente Il destinatario Di queste Triste considerazioni Sono i pagani Ordinariamente Il problema è che adesso Sono molti Cristiani Che Si dichiarano sapienti Ma purtroppo Sono diventati O sono Tukur Stolti Moltissimi però I quali credevano Di essere sapienti Qui continua Il catechismo Non avendo compreso Queste cose Credettero Doversi cercare La felicità In questa vita Divennero Stolti E caddero Nelle miserie Più grandi Di cui C'è un'ampia rassegna Nel primo capitolo Da lettere romani Che cita Questo versetto Che abbiamo già Avuto modo Di citare Dal significato Dell'espressione Vita eterna Impariamo anche Che questa felicità Una volta raggiunta Non può più Perdersi Come erroneamente Alcuni supposero Infatti La felicità Risulta Dall'unione Di tutti i beni Senza mescolanza Di alcun male La quale felicità Per appagare Il desiderio Dell'uomo Deve consistere Necessariamente Nella vita eterna Non potrebbe infatti Il beato Non volere Che gli sia dato Di godere per sempre Di quei beni Che ha ottenuto Dunque dare possesso Non fosse stabile Certo Sarebbe tormentato Dall'angoscia E dal timore Quindi questa È un'altra Caratteristica Di questo termine Vita eterna C'è una volta Che la consegui Non la puoi Perdere più Non te la può togliere Nessuno Non si può perdere E nessuno Te la può toccare Ora Paragrafo 142 Si intitola Ineffabilità Della vita eterna Ineffabilis In latino Vuol dire Che non lo puoi Afferrare Quindi Noi sappiamo Che c'è La benessutine eterna Vedremo anche I documenti Del concilio I concilio Hanno Esternato qualcosa Ma come ho avuto Modo di dire Durante le Omedie Della solennità Della santissima Trinità Anche la santissima Trinità Si può Balbettando Presentare Il mistero In modo tale Che se ne possa Uno avere Una minimo Di contezza E almeno Guardarsi Dalle eresie Grossolane In cui molti Incadono Senza saperlo Dal punto di vista Pratico Ma non è Che poi Si può Approfondire Troppo Perché Nessuno È in grado Di fissare Lo sguardo Su quello C'erano Di misteri Così come Sui tanti misteri Della fede Perché si chiamano Appunto Misteri Perché Ci mettono a contatto Con realtà Ineffabili Parliamo Questo termine Tecnico Stasera Queste stesse parole Paragrafo 142 Che appunto Si intitola Ineffabilità Della fede Viene eterna Mostra una Sufficienza Che la grandezza Della felicità Dei beati Nella patria celeste Da essi Solamente E da nessun altro Può essere Compresa Infatti Se noi Per significare Una cosa Facciamo uso Di un nome Comune Anche a molte altre È chiaro Che per esprimere Esattamente Quella cosa Manca la parola Propria Poiché dunque La felicità Viene espressa Con voci tali Che convengono Egalmente Ai beati E a tutti Coloro Che vivono Una vita eterna Si può allora Capire Che essa È una realtà Troppo alta E preclara Per poterne Esprimere Perfettamente La sostanza Con una parola Propria Infatti Nelle sacre scritture Si danno a questa Biblioteca Celeste E moltissimi altri nomi Come per esempio Il regno di Dio Il regno di Cristo Il regno dei Cieli Paradiso La città santa La città santa La nuova Gerusalemme La casa del padre E seguono Tutte altre Le assegne bibliche Dei luoghi Queste sono tutte Anche ci sono citazioni Vipolettate Dove sono usate Queste espressioni Tuttavia È chiaro Che nessuno di essi Va a esprimere Nella grandezza La città santa La nuova Gerusalemme Il vincitore Dallo da mangiare Della manna Che sta nel paradiso Di Dio La casa del padre Addirittura O addirittura Il regno di Dio Si sono cose Che ci danno un'idea Ma non esprimono bene La fede nella battitudine Promuove la pietà I parroci Non si lascino Qui sfuggire L'occasione Di richiamare I fedeli Con la visuale Dei premi Tanto grandi Racchiusi Nel nome di vita eterna Alla pietà Alla giustizia E a tutti i doveri Della religione cristiana E' noto infatti Che Si suole valutare La vita Tra i beni più grandi Cui Si tende Per natura Ok Ha ragione quindi La suprema felicità Vediamo Intanto Perdo il segno Devo ingrandire un po' Perché c'è adesso Bucca E' stata significata Mediante l'idea Di vita eterna Che se nulla E' più amato Nulla può esservi Di buccare O più giocondo Di questa nostra Piccola vita Piena di affanni Al quale Va soggetta La quale va soggetta A si numerose Varie miserie Che si dovrebbe Con più verità Chiamare morte Con quale ardore Dell'animo Con quale impegno Non dovremmo desiderare La vita eterna Che distrutti Tutti i mali Contiene la ragione Perfetta Assoluta Per tutti i beni Poiché come Trabandarono i santi padri La felicità Della vita eterna Si deve definire Come libera Si deve definire Come liberazione Da tutti i mali E acquisto Di tutti i beni Ok Liberazione Da tutti i mali E acquisto Di tutti i beni Amici Una cosa meravigliosa Stupenda Bellissima Tutti desideriamo Tante volte Ci troviamo In situazioni di vita Personali Esistenziali Sociali Politiche Economiche Culturali Sociali Ecclesiali E dove andiamo A liberarci Invochiamo Molte volte Anche il Signore Chi ci libera Ci sono delle situazioni Da cui non possiamo Liberarci Non possiamo farci nulla Ecco perché si sospira Anche la La vita eterna No Perché è la liberazione Liberazione Da tutti i mali E acquisto Di tutti i beni Sono tanti i mali Da cui dobbiamo liberarci Tantissimi Fisici Psichici Morali Spirituali Una delle cose più difficili È La liberazione Dalle Dalle situazioni Dalle persone Che A un certo punto Si rivelano essere In qualche modo Negative Tossiche Se si vuole Ma tanto Da qualcuno Tenei liberi E poi tanto Non arrivano altre Di situazioni Qui stiamo In continuo Combattimento Non è possibile Però è bellissimo Tenere presente Questa duplice Caratteristica Liberazione Da tutti i mali E acquisto Di tutti i beni Quali? Immaginer Tutti Se uno volesse Farsi un'idea Tenere amata Dice Che in paradiso Ci sono tutti I beni I diletti I piaceri Pensabili E concepibili Tutti Meno uno Che del resto Ce lo dice Gesù Nel Vangelo Non tenere amata I figli di questo mondo Prendono moglie Prendono marito Ma non coloro Che sono giudicati Figli della resurrezione Perché non prendono Né moglie Né marito Non dimentichiamo mai E anche qui Facciamo un altro spot Che c'è un altro Circo di Carichesi Sul peccato originale Che valorizza Ciò che è stato Approfondito Dalla tradizione Teologica Di Fior Di Padre Della Chiesa La natura Del peccato originale Adesso i figli Non possono nascere In nessun altro modo Ma l'atto Con cui nascono Che è quello Che è costituito Del peccato originale Rimane sempre Un atto In sé Attenzione In sé Umiliante Non voglio usare Il termine degradante Ma in sé Umiliante Questo Non lo dico io Si apre la sommateologia Di San Tommaso d'Aquino Che definisce Gli atti penerei Sempre comunque In sé stessi Turpi Perché L'uomo Quando è in preda Ad essi Perde l'uso Della ragione Si abbandona A comportamenti Atteggiamenti Esternazioni Manifestazioni Che certamente Non ne nobilitano La dignità Non penso Che ci voglia Molto A convenire Se uno Pensa Su questa cosa E questo è stato Una grande Un grande Scacco Del diavolo Perché Oltre a infettare La razza umana Tutti Salvo la madonna Che ha dovuto Stare un miracolo Però Perché si infetta La razza umana Perché Perché La chiesa dice Il peccato Divinale Si trasmette Nell'atto Del concepimento Più chiaro di così Che deve al disegno Ma perché Il concepimento Avviene nella Lussuria Nella Conquiscenza E quindi Frutta sempre Effetto Questo In paradiso È l'unica cosa Che non c'è Perché non c'è Perché Perché Essendo una cosa Di per sé Indegna per l'uomo Non ci può stare In paradiso Essendo peraltro Dopo la risoluzione Della carne E appunto Della vita Del mondo Liberale La vita eterna Amen C'è stata L'unica Motivazione Per cui Questo gesto È Giustificato Cioè La propria Fine Fine Teletrasmissioni Il contesto Vediamo adesso Che è pan Sessualizzato Non c'è niente A che vedere Con la Con la Vita cristiana Con la dottrina Cattolica Con la testimonianza Di sa Zero Ora Circa i mali Vi sono chiarissime Testimonianze Nelle sagre scritture È detto infatti Nell'Avocalisse Non avranno più fame Né sete Né cadrà sopra di essi Il caldo del sole Né altro ardore E di nuovo Asciugherà Dio Dei loro occhi Ogni lacrima E non vi sarà più morte Né lutto Né lamento Né dolore Perché le cose vecchie Sparirono Questa è una bella rassegna Quali sono i dolori Di questa vita? La fame È certo che è un dolore La fame Vedete però La vita cristiana Richiede L'esercizio Del digiuno Asceti E la pratica Della temperanza Se una temperante La mente Si alza Da tavola Bello abbottato Sato Dice Ah No La sete Si è mai successo Di morirci Di sete È una bella sofferenza No? Il caldo del sole Oh Quello per cui adesso Cominciamo Io già adesso in giro Ho visto Maschi Uomini Già adesso In pantaloncini In pantaloncini E maglietta E Siamo al 29 Di maggio Grazie a Dio La temperatura Ancora miglia Qua in questo momento Restano 17 gradi Fuori Non è che Dico ma Il caldo I figli di Dio Sapete che fanno Con il caldo Lo offrono Un pochino Di Dio Non troppo Cioè Se in macchina Si ha condizionato Lo puoi accendere Se troppo Lo mettere dentro casa Lo puoi anche accendere Ma Andare in giro Decorosamente Questo vale anche Per Per gli uomini È È offerta Del caldo È una mortificazione Certo che è una mortificazione Padre Pio dice Quando qualcuno dice Perché vai in giro Mezzo Perché sto morire caldo Sto morire caldo Ah vedrai Quando va all'inferno Quanto Quanto caldo Fate più Lui diceva sempre Le carni nude Bruceranno Le carni nude Bruceranno Lo diceva sempre Padre Pio Non lo dico io Se posso fare Un altro spot Pubblicitario Ecco È Uscito da poco Da poco Il libro Pirole di Catechesi Si chiama Si trova Così Chiunque sente Questa cosa Lo sa Si trova Su tutti gli store Editore Si chiama YouCanPrint C'è un sito web Si può acquistare Su YouCanPrint Si può acquistare Su Amazon Su Feltrinelli Su Mondatori Si può andare A una libreria fisica A ordinarlo Qualche copia Ce l'ho anche io Da poter quindi Commercializzare In privato Non sono tante Sì c'è un articolo Perché è concepito Da tutti quanti Articoli Su tematiche Quello che parla Della modestia Modestia nel vestire Dove ci stanno Tre giganti Della spiritualità Cioè Padre Pio Del secolo scorso Padre Pio Don Dolindo Ruotolo E Don Giuseppe Tomaselli Sentite quello che scrivono Dopo altro che fa caldo Che fa caldo Quindi Il caldo del sole Io non lo sopporto Il caldo Non sono un eroe Quando me posso difendere Mi difendo Ma non mi viene Passa manco Per l'anticamera Del cervello Toggo la veste talare E mi metto Il creagino A maniche corte I pantaloni Perché fa caldo Quando esco Ma non esiste Un giorno Saremo liberati Dal caldo E attenzione Il caldo sopportato Adesso Per l'amore di Dio Allora è il premio E di nuovo Asciugherà De loro occhi Ogni lacrima Le lacrime Qui Non qui Ci sono le lacrime sante Quelle E' bello Piangerle E ci sono anche Le lacrime Dolorose No Alcune sono anche Lacrime sante Le lacrime di pentimento Sono certamente Lacrime sante Quindi sono penose Le lacrime Le lacrime sono anche Quelle che dipendono Dai dolori Dagli affanni Dalle prove Della vita No Poi non vi sarà più morte La morte La morte La morte non è Sì Prima o Come dire Stando in un contesto Dove Affermare la Immortalità dell'anima E quindi la Relativizzazione Della morte L'ho un po' Ridicolizzata Però L'incontro Scontro con la morte È una cosa bella Ti muore La madre Il padre Il figlio Ma che uno sta bene Che fa la festa Anche no È un evento doloroso Quindi Nel lutto Nel lamento Nel dolore Perché le cose vecchie Sono passate Sparivano Questo è Invece Si avrà per i beati Un'immensa gloria Con infinite specie Di stabile letizia Di godimento Ma la grandezza Di questa gloria Non può essere compresa Dall'anima nostro Ne può penetrare Nel nostro spirito Sicché dovremmo necessariamente Penetrare in essa Cioè nel gato del Signore Affinché adesso Circonfusi Siano soddisfatti Pianamente Il desiderio Del nostro cuore Ok Penso che Possiamo fermarci Sì perché adesso poi L'articolo Proseguirebbe Però Ebbene Metterci un attimo Un taglio Perché Non farò Nel tempo a finire Eppure La carica Si appresenterebbe Molto Quindi direi Di concludere Di venerdica La Santa Vergine Vi protegga E buon desiderio Della vita eterna A tutti Che possa essere Questo pensiero Lo sprone Per dare ogni giorno Il meglio di noi Nei nostri slanci Per la gloria Di Dio E anche Per la salvezza Delle anni Odentur Iesus et Noi Noi Per la salvezza